Valle Verde, bar, ristorante, hotel e pizzeria in via Falcone Borsellino 32 a Gran Michele. Organizza il gran cenone di Capodanno con un ricco menù che alterna squisite portate di pesce a prelibati piatti a base di carne a soli 60 euro. Inoltre vi invita al pranzo di Natale e al pranzo di Capodanno con ricche specialità della casa a soli 25 euro. Per prenotazioni 334 35 59 542 e 0933 94 67 14.